Ok, siamo con Mr. Zichella, Mr. Delchieri. Qualche impressione a caldo, chiaramente per lei positiva sulla partita di oggi? Sì, diciamo che abbiamo fatto un buon primo tempo, abbiamo sbocciato abbastanza in prezzo al risultato. Mi è piaciuta la mia squadra nel primo tempo, il secondo un po' di meno. Però rimane la prestazione, noi avevamo bisogno di fare tre punti perché arrivavamo da tre sconfitte in cui una meritate, le altre due secondo me no. Quindi era giusto, secondo me, non ci farei tre punti. Ok, quindi è stata una quarta giornata di campionato per voi positiva. Mi faccio i complimenti. Sì, insomma, 3-0, rigore sbagliato, forse un pallone a traversa, insomma, voglio dire, secondo me è stata una domenica positiva, però conoscendo la squadra nostra che è molto giovane, già da martedì si ricomincia a lavorare, a pensare, a mandare a Borgosesi, a cosa era così. Si pensa già alla prossima. Allora, ringrazio il mister, in bocca al lupo. Grazie molte.